Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono ClaudioGames26 e volevo dirvi una cosa Volevo dirvi solo che Lo so che non ho fatto molti video frequentemente Perché il mio computer non è uno dei migliori Ci sono entrati virus, ci sono entrati Diversi cose, purtroppo Sono entrati diversi virus, quindi ho avuto dei problemi Allora, oggi Visto, muoviamoci perché Devo fare video, non posso vivere senza video Comunque, facciamo un GTA 4 Ok raga, volevo farvi vedere una cosa Noi siamo all'ospedale Giusto? Qua, emergenzia E ciò, scusate Allora Ciò, scusate Sono un po' raffreddata Allora Questo tizio Vuole fare l'acrobata Si vede già dalla faccia Questo tizio Tutti gli acrobati che devono fare C'è un tizio lì Non uscire Non uscire E là Allora Scusate perché mi raffreddo ora Allora Appena entra uno sbirro Detto sbirro Che dovrebbe entrare troppo Io lo devo fare saltare in aria Giusto? Si Veloci Sì Io vi faccio saltare a voi Madonna mia Non ci riesco Fanno pena Questi sbirro Eccoli Guardate Bomba Quello è vivo Ma che volo che ha fatto? Salve Barbecue Di di Non ci Ha schivato il proiettile E ancora l'ho schivato più Come vi finirà? Ehm Vedo quelli Prendiamo fuoco Cato E Prendi fuoco anche tu Prendiamo fuoco In compagnia Sì Ora mi avete rotto Ok Ma doveva? Non è aggredato questo Ok Siamo ricercati Grazie per le pistole So Vorrei rubare un'auto Madonna mi devono chiamare che l'ho chiudi Dietro Dietro Grazie Andiamo raga Gli sbirri devono morire Perché non si deve Non si deve Scusate Fai un po' stonato Comunque Direi di abbassare un pochino No, questo è troppo Ecco Era lo stesso di prima Ecco, ora così va No Non l'avevo vista Comunque ho fatto un volo Fighissimo Permesso Per ripassare Gli sbirri No Stata senza uscita Il motore Il motore, il motore, il motore Levati, canello, levati Levati Motore, il motore, il motore Sì Prendetevi adesso Prendetevi Oh, sì Ce la potete fare? Qua avete Il campione di Formula 1 Guardate qui Come schiva le macchine E' allenata a fare queste cose Oddio Ecco Vedete pure A quando devo urtare Ciao Ora dove vado Dove vado? Oddio Dove sono andato? Comunque giro di qua va Strami Ti prego Censurare Grazie Se forse non te sei accorto Sei ricercato Quindi farei in fretta Spirri Spirri Non, non, non Ma dove sei qua? Spirri Spirri Ciao Dio Dio No Di qua Gira Sai girare? No Guardate Guardate Queste Mi ha messo fuori Ma allora sei un deficiente Sei Ma sei un deficiente Di natura Un deficiente Di natura Comunque Riubbiamo un'altra auto E l'ultima tappa Sarà una tappa importante Perché importante? Perché io già quella tappa L'ho fatta Però non è venuta un granchè Stronzo Non è venuta un granchè Che sarebbe la tappa Quella tappa lì Che conosciamo tutti Proviamo se lì E senti amico Finisce Prima che ti faccio saltare Con la testa Fitosa che hai Roman Ah non si chiudeva la telefonata Ah ho sbagliato Scusate Comunque Devo fare veloce Prendo questo pick up Perché mi piace a bestia Quindi levati Perché serve più a me Che a te Quindi andiamo Ok raga Siamo partiti Allora non vi porto In quel posto Che vi ho promesso Che è venuto male Perché neanche La nuova attrezzatura Che ho preso Riesce a catturare Quelle immagini Quindi Faccio un'altra corsa Contro gli spisi Va bene? Quindi prendiamo Ah vero non ce l'abbiamo Il coso Quindi Vabbè accendiamo Ma ne attiriamo Vai Allora intanto Sono stupido Attiriamo gli sbirri Ecco E andiamo Salve Ok raga Si parte contro Gli sbirri Volevo solo dire Gli sbirri Che sono armato Anch'io E posso sparare Dall'automine Così Sì Mi piace No Mi per fortuna Mi sembrava Che c'era Qua sotto Quasi Culo Ah Gli sbirri Non possono Vedi Oddio No 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 Accelera Perché Ti muovi Oddio Oddio Scappa 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 Esplode Tutto Esplode Esplode Tutto Esplode 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 Bomba Ok Speriamo Che non ci vede Va bene Non mi hai fatto niente No Siete Io Qui sono armato Sa E che lui ha un elicottero Eccolo Dovrebbe venire da qua Forse Qua Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Non ci arriva, vero? No Ci arriva Ci arriva, avvicinati Sono morto Ah no no, ce l'avviva La cosa brutta è questo gioco Che non vuoi andare sott'acqua Quindi non ti devono prendere Ma se io vado a tiki tiki No, ci sono quegli stronzi Che mi hanno ucciso Comunque ragazzi Penso di concludere qui con un cadavere in acqua Che sarei io Quindi Ok ragazzi Se il video vi è piaciuto mettete mi piace Iscrivetevi al canale Perché siamo fermi a 12 iscritti Dai aumentate E comunque Se volete Volevo dirvi una cosa Se sapete qualche azione strana da fare Su GTA 4 Ditemelo Cioè se sapete tipo Come uscire gli sbirri In un altro modo Come scappare Come Non lo so Scrivete nei commenti nel video Io Eseguirei questi comandi Potete dirmi per esempio tipo Fai una challenge con l'acqua Con quello Con un tizio Con un caio E mi raccomando E volevo solo dirvi Che iscrivetevi al canale Mettete mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Grazie a tutti.